L'ex assistente del generale Baro è prigioniero in un avamposto dell'Unidad. Fatelo evadere e scoprite se sa dove è Baro. Cecchino, in cima alla torre. Cecchino su quella torre. Cecchino, in cima alla torre. Fuego, enemigo. Abaixo, abajo. Todos pecho a terra. Fuerza enemigas in posizione per mandare a Taker. Solicitando fuego di apoyo. No, send me. Ese vato. Attivo il drone. Disposto in posizione. Bersaglio acquisito, in attesa. Bersaglio acquisito, in attesa. Bersaglio acquisito, in attesa. Bersaglio acquisito, in attesa. Contatto acquisito. Tutte le unità scubrense e prepararsi per rispondere a fuoco con fuoco. In che direzione si fuori? Vado in posizione. Ok, bersaglio è marcato. No vedo a nadie. Apro il fuoco sui bastardi. Intrusos in la zona. Fuerza inimiga si è in posizione per mandare attacchi. Fuego a volontà. Oggi si è in posizione per mandare attacchi. Oggi si è in posizione per mandare attacchi. Oggi si è in posizione per mandare attacchi. Ok, mi muovo. O il nemico. O uno in meno. Ci siete? Fuoco, fuoco, fuoco. D'accordo. Vado in posizione. Ok, bersaglio è marcato. Non ho una linea di tiro. Fuoco. Ricevuto. C'è un bersaglio con mitra. Ok, mi muovo. Ci siete? Aprite il fuoco. D'accordo. Roger, raggiungo la posizione. Bersaglio questo. Nemico a terra. Li abbiamo un po' scorsi. Questo è un aviso per tutte le unità. Ci sono disparate. Vado. Vado. A tutte le unità, comiencen il attacchi. Enemigos a la vista. Coordinando il attacchi. Vado in posizione. Ci siete? Fuoco, 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 fuoco. Ricevuto. È andato. Roger, di nuovo. Ci siete? Aprite il fuoco. D'accordo. Ok, mi muovo. Fuoco. Ricevuto. Roger, raggiungo la posizione. Ci siete? Aprite il fuoco. Roger. Vado in posizione. Ok, qui sul bersaglio. È a terra. Intruttate in la zona. Ok, mi muovo. Fuoco. Ricevuto. Uno preso. Non voglio incontrarsi. fuoco, 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 fuoco. Vado in posizione. Ci siete? Fuoco, fuoco, fuoco. D'accordo. Ok, mi muovo. Fuoco. Ricevuto. Vado in posizione. Ci siete? Fuoco, 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 fuoco. D'accordo. Ok, mi muovo. Aprite il fuoco. Ricevuto. Bersaglio a terra. Vado in posizione. Ho, ciao, ciao. Fraut. Sì, sì, sì. A tutti i uniti, comiencen l'attacco. Ok, mi muovo. Fuoco. Ricevuto. Vado in posizione. Ho il nemico. Preso. Non ci sono più nemici. Forza inimiga in posizione per mandare attacchi. Solicitando fuoco di appoggio. Drone in volo. Ok, mi muovo. Ok, bersaglio marcato. È morto. Ci siete? Aprite il fuoco. È ricevuto. Lente a cui sparare. Fuoco, fuoco, fuoco. Roger, mi muovo. Roger, bersaglio marcato. Quello è fottuto. Ciao. Vado in posizione Fuoco Ricevuto Roger, raggiungo la posizione Ci siete? Fuoco, fuoco, fuoco Roger Ok, mi muovo Occhi sul bersaglio Uno preso Stai indietro, ti obbligo a farlo Vado in posizione Ci siete? Aprite il fuoco Ricevuto Ok, mi muovo Nemico marcato Aprite il fuoco Ricevuto Vado in posizione Al mio via Fuoco Roger Roger Vado in posizione